Buongiorno a tutti, sono Maria Paola Zampella, sono un biologo nutrizionista specialista in scienze dell'alimentazione collaboro già da più di un anno con l'associazione Giovanni Parkinsoniani e con il Comitato Parkinson e proprio grazie a loro che oggi sono qui per dare il supporto a tutti voi e al Comitato per darvi tutte le corrette informazioni e soprattutto chiarire dubbi, curiosità, perplessità e richieste di aiuto relativamente al discorso di tipo alimentare e soprattutto come poter gestire un'alimentazione corretta in questo periodo che ci obbliga purtroppo a rallentare i ritmi e non sempre ci permette di avere una così larga libertà di spesa anche per gestire al meglio il discorso di uscite di una sola persona, di persone che non devono essere vicino l'uno all'altro durante la spesa. Quindi oggi il mio compito, spero anche nei prossimi video, sarà quello di darvi un supporto, di darvi delle informazioni e poi una volta concluso questo incontro di 20 minuti sarò a disposizione per rispondere alle vostre domande su Facebook, per email, tramite quello che invierete al Comitato e poi magari creare ulteriori video solo una volta a settimana ma anche due volte alla settimana in funzione delle richieste che arriveranno proprio da voi. Allora, vorrei prima mostrarvi quello che noi definiamo il manifesto del Comitato Parkinson quindi quello che secondo noi è il modo migliore per poter gestire l'alimentazione di fronte a una malattia come la malattia di Parkinson. Allora, sicuramente quello che si chiede è di mantenere uno stile di vita sano, attivo, un'alimentazione equilibrata. Cosa si intende per stile di vita? Per alimentazione equilibrata? Niente di complicato. Stile di vita, stile di vita attivo, compatibilmente con quelle che sono le vostre capacità, le vostre preferenze, quelle che sono le vostre attitudini, cercare comunque di fare costantemente del movimento che vi permetta di mantenere i muscoli tonici attivi e vi permetta con il movimento anche di gestire eventuali aumenti di peso legato a un rallentamento delle vostre capacità di movimento oppure in questo caso anche della sedentarietà in modo tale che una volta mantenuto il peso o raggiunto il peso forma, anche la terapia farmacologica riesca a essere settata in modo più adeguato, quindi riesca a essere più corretta per voi senza tante necessità di aggiustamenti e di variazione. Per alimentazione equilibrata intendiamo un'alimentazione che richieda, che chiude a tutti gli alimenti nelle giuste quantità, con le giuste frequenze, che prevede a una giusta assunzione di acqua e di alimenti che comportano con sé delle vitamine, delle stelle minerali, della fibra e degli antiossidanti. Perché è importante fare questo? Perché un'alimentazione che permette all'organismo, che permette a noi, a tutti noi, indifferentemente dal nostro stato di salute e dalla presenza di patologie, di avere tutto ciò che gli serve, è un organismo che funziona al meglio. Un organismo che funziona al meglio ha anche un sistema immunitario che funziona bene e questo ci aiuta, soprattutto in questo caso, anche a combattere meglio le malattie stagionali o malattie strane, come quelle in cui stiamo andando incontro adesso, quella legata al coronavirus. Soprattutto dobbiamo gestire e cambiare il nostro stile di vita se il nostro specialista di fiducia, che è un neurologo o comunque un nutrizionista di dietologo, ci fa notare che c'è qualcosa che va a interferire negativamente con quello che è la nostra terapia o il peso non è adeguato a quello che è il nostro stile di vita e soprattutto il peso non va bene per stare al meglio con se stessi e per avere uno stato di benessere psicofisico e di salute adeguato. Cosa intendiamo per gestione di peso? Allora, se siamo in una situazione di peso in eccessivo, superpeso, obesità, sarà poi lo specialista a vederlo, si richiede di mantenere sì un'alimentazione filibrata, ma di ridurre le calorie assunte. Come possiamo fare? Sicuramente gestire un equilibrio tra i pasti. Come possiamo farlo? Sicuramente se non assumiamo alcuni farmaci, quelli a base di levodopa, che richiedono magari un cambiamento della distribuzione di alcuni alimenti nella giornata, l'ideale sarebbe quello di consumare. Possibile alimenti a basso indice glicemico, avere pasti calibrati e equilibrati, che provvedono un po' tutto. Quindi, una colazione, un po' di carboidrati inteso come biscotti, fette biscottate, della frutta, delle patine, magari può essere una bevanda vegetale, un yogurt, se lo troverate. A pranzo, un primo piatto condito con delle patine vegetali, che magari possono essere i legumi, e avere anche della verdura. E la sera, un secondo tipo carne, pesce, uova, magari ogni giorno, formaggio e salumi, e sempre la verdura. E utilizzare anche dei momenti, come quelli che sono gli spuntini, per introdurre, non so, la frutta, se non la gradite al mattino, o non la gradite dopo i pasti, o magari dei biscotti secchi, dei creche, delle fette biscottate, un altro yogurt, se lo tollerate. In questo modo, con gli spuntini, riusciamo anche a gestire meglio un discorso di eventuale fame nervosa, o di difficoltà magari digestiva, o di inappetenza, che può subentrare se c'è un effetto negativo, un effetto collaterale dei farmaci. Quindi, sia che dobbiamo gestire un peso che deve scendere, quindi perdere peso, sia che dobbiamo gestire un peso che deve essere mantenuto, addirittura aumentare, perché abbiamo necessità di aumentare la nostra energia giornaliera, l'utilizzo degli spuntini può essere molto utile. Però sarà poi il specialista che vi segue, a indicarvi gli spuntini più adeguati. Ovviamente, in questo periodo, la voglia di fare spuntini può essere anche dettata un po' dalla noia, dalla necessità di vincere un po' la tensione nervosa. E in questo modo, se capita questo e abbiamo problemi di peso eccessivo, possiamo orientarci magari su qualcosa un po' più da bere, delle tisane, degli estratti, dei centrifugati, dei ghiacciolini fatti in casa con le monestevie. Se invece, dobbiamo aumentare il peso, se siamo un po' inappetenti, magari puntare su qualche dolce a bastione di cilicemico, dei prodotti da forno, tipo del pane più ricchio di fibre, cereali, con delle bruschette, si può tutto andando incontro alla bella stagione. quindi lo spuntino può essere un elemento che possiamo gestire in funzione di quelle che sono le nostre esigenze. Però la cosa importante è cercare di mantenere anche il piano alimentare che vi è stato dato dal vostro specialista, che valuterà caso per caso quelle che sono le vostre esigenze. problemi di colesterolo, problemi di depressione, problemi di apnea roturna, quindi tutto ciò che si associa a una malattia come il Parkinson e va trattato dal punto di vista alimentare, richiede poi il supporto di uno specialista. quindi la prima cosa è mantenere, ridurre il peso se è eccessivo, mantenerlo se il peso va bene e aumentare il peso se il peso è troppo basso per evitare di avere una malnutrazione in questo caso per difetto. Va poi calibrata quindi a regolare la dieta in funzione di quelle che sono i farmaci assunti. Quindi se assumete un farmaco base di evidopa e vi viene consigliato e soprattutto non notate nel momento stesso in cui assumete delle proteine di origine animale ai pasti e notate l'effetto più rallentato del farmaco o una durata inferiore in questo caso il consiglio da parte degli specialisti è quello di ripartire le proteine della giornata vuol dire escludere le proteine vuol dire solo ripartirle del tipo la sera potremmo consumare una porzione un po' più abbondante di secondo di carne bianca di pesce soprattutto di legumi uova una volta formaggio una volta salumi e a pranzo ci orienteremo principalmente su proteine vegetali quindi sulla pasta possibilmente integrale alternata a pasta di semola normale riso riso nero farro orzo quinoa amaranto condita sempre con abbondante verdura se avete molta fame magari prima di mangiare potete introdurre uno spuntino di verdura o un centrifugato questo perché è importante sì la sezietà è importante sì mantenere una buona prestazione dell'intestino cioè un svuotamento regolare dell'intestino che permette al farmaco di funzionare ma la cosa importante in questo caso è evitare che ci siano dei contrasti delle interferenze in termini tecnico si dice così tra quelle che è la levodopa e le proteine di tipo animale per l'ingresso del farmaco a livello cellulare e la colazione verrà gestita con o si potrà inserire sia un alimentare di origine animale oppure no in base alla risposta che avrete personalmente voi a livello di farmaco quindi vi verrà chiesto il vostro specialista di fiducia di fare delle prove sul discorso della colazione una colazione di tipo classico quindi che può essere del latte dello yogurt combinato con i biscotti delle fette tostate oppure una colazione che non prevede assolutamente un prodotto di origine animale magari per saziarvi un po' di più può essere una bevanda vegetale magari a base di avena di farro di amaranto di quinoa eviterei la soia perché può avere tanti interferenti eviterei quello di riso perché ha un indice glicemico molto alto quindi per gestire bene un'alimentazione i pasti dovrebbero essere più liberati possibili compatibilmente con i farmaci che assumete e anche la colazione cerchiamo di gestirla in modo tale che vi dia la sazietà giusta non ci siano dei picchi di quell'ormone che noi chiamiamo l'insulina che facendo su e giù determina un aumento di fame in modo tale che la terapia continua a funzionare molto bene la fame sia gestita e anche quindi il vostro peso sia mantenuto coscienda se necessario e soprattutto se introduciamo la giusta quantità di fibra con alcuni alimenti integrali con la frutta gli spuntini o i pasti con i centrifugati con la verdura a tutti i pasti faremo sì che l'intestino possa continuare a funzionare al meglio lo sapete meglio di me che un intestino che funziona bene permette e qui vuol dire scaricarsi giornalmente in modo adeguato permette il farmaco di essere più efficace quindi la stips sappiamo che può essere un problema a pregresso o un problema se introduciamo la giusta quantità di fibra con alcuni alimenti integrali con la frutta gli spuntini o i pasti con i centrifugati con la verdura a tutti i pasti faremo sì che l'intestino possa continuare a funzionare al meglio lo sapete meglio di me che un intestino che funziona bene permette e qui vuol dire scaricarsi giornalmente in modo adeguato permette il farmaco di essere più efficace quindi la stips sappiamo che può essere un problema a pregresso o un problema che peggiora negli anni sicuramente un buon modo per gestire l'intestino un pochino più estetico è bere la giusta quantità di acqua quanta? almeno due litri per molte persone tanto perché riescono ad arrivare sul malapieno un litro per altre una quantità facilmente raggiungibile un piccolo trucchetto mascherato un po' sopra dell'acqua tipo con del succo di limone del succo d'arancia magari combinando con qualche tisana al finocchio allo zenzero che stimolano più facilmente la digestione e magari se vi piace anche qualche strato di ananas della malva della camomila tutto ciò che ovviamente che non faccia interferenza con i vostri farmaci ma che vi aiuti a bere un pochino di più ponetela come se fosse un farmaco allora io devo prendere due bicchieri d'acqua quindi due bicchieri d'acqua sono alle 10 del mattino nel pomeriggio devo prendere altri due bicchieri d'acqua alle 16 del pomeriggio la mia sveglia che mi ricorda che devo prendere assolutamente due bicchieri d'acqua magari una tisana la sera se non avete poi problemi di sveglia notturna quindi trovate il vostro sistema per introdurre un pochino più di acqua magari una cosa che può servire utile per fare del brodo la sera invece che mangiare il pane e mangiare una pastina in brodo e abbinare il secondo oppure un passato di verdura un pochino più brodoso o anche banalmente un paio di bicchieri d'acqua calda al mattino con un pochino di limone e di zenzero aiutano comunque a smuovere l'intestino tutto ciò che comporta un aumento dell'assunzione di liquidi è positivo per il vostro organismo allora poi abbiamo parlato anche di l'indice glicemico degli alimenti che cos'è non è altro che la quantità di zuccheri che sono presenti nell'alimento che determinano l'aumento di zucchero nel sangue e una volta che aumenta lo zucchero nel sangue aumenta anche un ormone che si chiama insulina quindi più noi gestiamo l'alimentazione piccola premessa l'insulina è l'ormone che se si aumenta troppo scatena i picchi di fame che possono subentrare soprattutto quando uno pasticcia mangia molti dolci molti prodotti raffinati tipo comunque del cera crema vinie torte pane pasta pizza quindi più noi riusciamo a mantenere un'alimentazione che maschera un po' questi zuccheri presenti negli alimenti e quindi fa utilizzare di meno la glicemia più la fame verrà tenuta a base soprattutto se diventa una fame nervosa e anche si fa prevenzione su quelle che sono magari delle malattie come il diabete la sindrome metabolica che possono subentrare nel tempo negli anni soprattutto quando si ha un peso un pochino eccessivo quindi va benissimo utilizzare alimenti integrali non solo integrali ma anche praticamente utilizzare la verdura per condividere la pasta la verdura ad ogni pasto e se non avete problemi di interferenza con i farmaci utilizzare magari anche delle potine vegetali tipo dei legumi a pranzo quindi una banalissima pasta con i fagioli un riso con i piselli anche una volta a settimana se invece utilizzate farmaco base di la verdura può essere un'alternativa per introdurre un pochino più di fibra quindi ritornando al discorso delle proteine possono essere quelle animali di origine animali quindi carne pesce uova o qualche salone o formaggio ci devono essere comunque sempre nell'alimentazione predileggendo la sera come momento di introduzione potete prenderla proprio come regola nel senso sia che prendiate le voi dopo o preno questi tipi di proteine la sera e a pranzo proteine di origine vegetale quindi se non ci sono problemi di interferenza con il farmaco magari la pasta con i legumi il riso con i legumi tipo cerali tipo orzo farro che no con i legumi quindi non è detto che si debba per forza questo non vuol dire seguire un'alimentazione di tipo vegetariano o vegano no è un'alimentazione di tipo mediterraneo molto variata questo non vuol dire anche che non si possa invece seguire un'alimentazione di tipo vegano o vegetariano ma dal punto di vista di scelta etica non c'è nulla che contrasta ovviamente andremo a scegliere anche per la sera nel caso di alimentazione vegetariana andremo a scegliere le uova magari introdurremo comunque il formaggio una volta alla settimana se mangiate pesce o quello magari come per ponderanza gli albumi da soli per fare dei gratinati di verdura e qualche hamburger vegetale però non quelli a base soia quelli magari combinati con la quinoa magari potete creare non so cuocere la quinoa una volta una quantità tipo tale per due o tre volte e preparare con questa quinoa già cotta degli hamburger insieme anche delle verdure e degli spezie e degli aromi allora un'alimentazione che diventa prevede una ripartazione delle proteine animali a cena non è comunque un'alimentazione ipoproteica no le quantità di proteine che dovete assumere devono essere calibrate dalle specialista che farà il conto su quella che è la vostra massa muscolare che sono i vostri fabbisogni le vostre esigenze a volte se la sensibilità è tanta quindi c'è difficoltà anche con alimenti già di loro con poche proteine come alimenti di origine vegetale per alcune persone e sempre su indicazione di medico si possono utilizzare dei prodotti alternativi tipo quelli che si utilizzano per chi ha problemi di rene chi fa dialisi con meno proteine però questi casi sono casi particolari in cui è proprio lo specialista il medico dietologo o nutrizionista che vi consiglia che cosa fare mi raccomando cercate sempre di mantenere i pasti equilibrati quindi una buona colazione un buon pranzo un pranzo che sia più abbondante della cena e i due spuntini non eccessivi che sia una merenda uno spuntino o una spezza fame se vi rendete conto che la vostra fame è maggiore in alcuni momenti potete anche magari la fame è maggiore a colazione potete anche slittare uno dei due spuntini della giornata verso la colazione e quindi fare una colazione un pochino più abbondante sempre ritornando alle proteine perché non vanno escluse non bisogna mangiare nemmeno di quello che è necessario perché comunque le proteine sono la base dei nostri muscoli e sono la base del buon funzionamento del nostro sistema immunitario insieme a delle altre sostanze come le vitamine le sere minerali gli antiossidanti quindi la sera punteremo sempre su quelle di alto valore biologico quelle della carne delle pesce delle uova in modo tale da far sì che i nostri muscoli continuino a essere ben costruiti e i nostri tessuti le nostre cellule continuino ad essere riparate e tutte le nostre funzioni dell'organismo tra cui gli enzimi gli anticorpi tutto ciò che va finalizzato a proteggere continui a funzionare al meglio in alcune persone a volte può essere necessario integrare in una seconda parte della giornata con alcuni momenti o a rotazione durante la settimana l'integrazione con alcune proteine tipo quelle del sereo del latte in alcuni casi dell'album e dei legumi perché c'è una tendenza a perdere più facilmente massa muscolare però in questo caso è proprio comunque il medico o il specialista che indicherà quando prenderle come prenderle e con che frequenza allora un altro modo per gestire il discorso della fame e anche gli spuntini a parte l'utilizzo della frutta che può essere fresca o cotta comunque sempre tutta di stagione è l'utilizzo della frutta secca allora possiamo assumerla in quantità più o meno grandi a seconda di quello che è appunto il peso e della propria tollerabilità a meno che non ci siano allergie frutta secca intese come noci nocciole mandorle pistacchi non salati sono una buona fonte di minerali di vitamine di acidi grassi essenziali quindi aiutano l'organismo e anche di fibra quindi aiutano anche un pochino a gestire il discorso della regolarità intestinale piccole porzioni se dobbiamo gestire il peso più un discorso di fame possono andare ad integrare i pasti e la colazione soprattutto se invece dobbiamo mantenere il peso o dobbiamo aumentare con queste farine con la frutta secca si possono creare delle farine tipo farina di mandorla di nocciole e essere utilizzate combinate con altri ingredienti perché dalle dei dolci un pochino più alternativi diciamo così o dei prodotti da forno più alternativi quindi ha un indice glicemico un pochino più basso e quindi darci anche un pochino di palatabilità di gusto qualcosa di diverso nella giornata senza però andare tanto a incidere negativamente sul peso oppure utilizzare lati fermentati ce ne sono di vari in commercio per aiutare comunque l'organismo adesso sembra anche dei probiotici cioè degli organismi molto utili per far sì che l'intestino funzioni meglio e funzioni bene sappiamo anche che dall'intestino parte una parte del nostro sistema immunitario allora cosa dobbiamo evitare sicuramente gli alcolici superalcolici vivande zuccherate non eccedere quello zucchero neanche quello di canna marmellata creme varie evitare le fratture le fratture tra punti ingolate o comunque lunghe che rallentano un po' la digestione all'atto del consumo evitare insaccati formaggi stagionati se ci capita di non consumarli con frequenza questo è importante o se lo facciamo poi il giorno dopo cercare comunque di ridurre il contenuto del sale una cosa importante se sono presenti ulteriori patologie far presente al proprio specialista tutto quello di cui soffrite in modo tale che possa creare un piano alimentare ad hoc per voi magari vi farà fare delle rotazioni con alimenti vi farà fare un periodo di scarico di alcuni alimenti e l'introduzione di altri vi dirà di sarrattimento soprattutto al contenuto di sale al contenuto di zuccheri al contenuto di alcuni minerali al contenuto di alcune vitamine cosa importante però nella media un'alimentazione variata e equilibrata vi dà tutte le sostanze senza causare comodi allora sicuramente è importante rigurrò anche il contenuto di sale puntando su quello magari più iposodico e iodato per i discorsi del calcio non è necessario consumare per forza il formaggio assolutamente no nel senso avviene una porzione di formaggio se uno vuole prendere un yogurt giornaliero non succede nulla non eccediamo con i formaggi di tale sarebbe una volta a settimana e poi invece la principale fonte di calcio è proprio l'acqua l'acqua di calcio le proteine degli alimenti sia quelli vegetali quegli animali favoriscono l'assimilimento del calcio dell'acqua ci sono delle acque che sono un pochino più calciche e quindi permettono di assorbire un pochino più di calcio e anche gli alimenti conservati non andrebbero andrebbero limitati andrebbero limitati proprio perché hanno un alto contenuto di sale e rallentano un po' la digestione via libera invece ha come condimenti oltre all'olio di extravergine di oliva l'olio di lino l'aceto l'aceto di miele l'aceto di vino il limone le spezie le erbe aromatiche e variare tanto frutta e verdura nell'ambito della sagionalità quindi raggiungere le famose 5 porzioni almeno di frutta e verdura al giorno i famosi 5 days praticamente 5 colori al giorno quindi possibilmente variare frutta e verdura nell'arco della giornata o quantomeno nella settimana compatibilmente adesso in questo periodo con una spesa che risulta un pochino più complicata da gestire allora per quanto riguarda invece delle difficoltà un pochino più specifiche come la disfagia o una stipsi più ostinata o altre problematiche vi rimando al prossimo video allora io rimango a disposizione per domande per chiarimenti per curiosità non abbiate timore scrivetemi consultatemi quello che posso fare io a distanza e remoto ben volentieri in questo momento cerchiamo di esservi più vicino possibile ma soprattutto anche dopo cercheremo di esservi sempre di supporto per darevi tutte le informazioni necessarie e per aiutarvi a gestire anche i momenti in cui vi sentite un pochino dispersi e quindi siete un pochino in presa dei dubbi e non sapete come andare vi ringrazio per l'attenzione e vi mando questo bacio e vi ringrazio Grazie a tutti